cari amici di fano tv buonasera e benvenuti all'ultimo appuntamento dedicato a passaggi festival ormai manca davvero poco dalla 18 al 25 giugno nona edizione di passaggi buonasera allora al direttore artistico giovanni belfiori ben trovato buonasera e grazie ancora per tutta l'attenzione che ci avete riservato in queste settimane grazie a te e grazie anche a ludovica zuccarini curatrice di fuori passaggi di cui parleremo tra poco benvenuta buonasera grazie allora questa sera giovanni ci porterai in un luogo specifico e ci parlerai di eventi particolari andiamo alla chiesa di san francesco perché una parte di passaggi si svolgerà proprio in questo luogo sì io innanzitutto voglio precisare che ludovica non è soltanto la curatrice di fuori passaggi musica in social ma è anche davvero la persona con cui io condivido tutto l'itinerario organizzativo di programma di passaggi festival dal 2015 è la vice direttrice del festival ma è soprattutto la persona che davvero da dal primo gennaio al 31 dicembre lavora per passaggi festival ed è anche grazie a lei appunto che si fanno cose belle come quella quello che tenteremo di fare alla san francesco dove ci saranno tantissimi appuntamenti perché le fasce sono più di una alle 18 alle 19 alle ore 21 e anche alle ore 23 e ogni fascia ha un suo percorso quella delle ore 18 è dedicata per esempio al benessere ma non soltanto il benessere fisico quindi non è che si parla soltanto per esempio di alimentazione anche se ci sarà un medico un alimentarista molto famoso per luigi rossi che parlerà di alimentazione ma si parlerà anche di benessere spirituale della mente dei cambiamenti della propria personalità quindi è una rassegna molto importante e molto interessante alle ore 18 alle ore 19 è la rassegna chiamata libri alla san francesco qui abbiamo una saggistica assolutamente variegata poi vi dirò qualche titolo alle ore 21 c'è l'appuntamento che ormai abbiamo dal 2017 sulla poesia perché passaggi festival e si il festival della saggistica ma ha delle finestrelle aperte una anche importante come passaggi diversi rassegna dedicata alla poesia voglio citare un paio di appuntamenti per esempio il 22 abbiamo un appuntamento dedicato a dante in occasione del settimo centenario della scomparsa del poeta il 24 abbiamo una cosa importante perché perché guardate in italia c'è un premio di poesia autorevolissimo prestigioso che il premio letterario franco fortini è un premio che si dà a milano da quest'anno il premio fortini viene a fano non per la finale che poi mi pare ottobre novembre a milano ma per presentare la cinquina in in anteprima nazionale dei poeti finalisti è un accordo che abbiamo fatto quindi il premio fortini a questa a sua volta questo spazio dentro il il passaggi festival e poi il 25 sempre a proposito di poesia abbiamo una poetessa amatissima da tutti gli italiani che è mariangela gualtieri quindi un programma estremamente ricco ma non è chiuso qui perché da martedì a domenica abbiamo dalle 11 a mezzanotte la rassegna europa mediterraneo si tratta di romanzi quindi anche qui un po di narrativa ma anche di non fiction perché ci sono anche due libri biografici dedicati alla letteratura balcanica due scrittrici serbe uno scrittore albanese e una scrittrice albanese inoltre il 18 e il 19 quindi nei primi due giorni di apertura sempre alla san francesco dalle 9 alle 10 non c'è la poesia che c'è invece negli altri giorni perché abbiamo marino sinibaldi marino è oltre a far parte del comitato scientifico di passaggi festival essere stato fino a qualche mese fa direttore di radio 3 tutti identificano sinibaldi corrai radio 3 marino curerà da quest'anno una rassegna proponiamo due appuntamenti in quest'anno uno con armando masserenti e uno con luigi manconi il 18 e il 19 ma da quest'anno cura questa rassegna che si intitola anno per anno una rassegna che proprio entrerà dentro i problemi dell'attualità quindi la san francesco è una diciamo così delle sedi più vive più interessanti del festival anche qui l'ingresso è assolutamente gratuito non c'è bisogno di prenotare però quando si va lì ovviamente i posti sono distanziati c'è la sanificazione si entra si devono lasciare i propri dati perché il tracciamento va fatto non solo ma le ragazze che sono lì all'ingresso possono raccogliere se qualcuno vuol prenotare anche diciamo la prenotazione per gli incontri magari dei giorni successivi mi pare che sia uno dei posti più interessanti da visitare del festival benissimo e un altro appuntamento è quello dedicato a fuori passaggi music and social un calendario davvero ricco di eventi e ricco di ospiti interessanti sì e quest'anno è la terza edizione che facciamo nella rassegna fuori passaggi music and social ed è proprio la rassegna che abbiamo dedicato alla musica e al appunto a tutto il mondo del dei social quindi gli influencer i youtubers e quest'anno dopo diciamo questa terza edizione abbiamo diciamo degli ospiti veramente importanti iniziamo infatti il 18 giugno con alle 7 alle 19 30 con la cantautrice levante che presenterà il la sua ultima e il suo ultimo libro e questo cuore non mente edito da rizzoli libri e poi avremo subito dopo davide toffolo che ci presenterà il suo la sua graphic novel come robare un magnus e farà una breve performance live il 19 invece quindi sabato ci sarà andrea pennacchi e l'attore di cinema famoso soprattutto su propaganda live per il suo ruolo del del poiana e sarà accompagnato nel suo diciamo monologo nella sua performance performance questo reading musicale con il suo musicista giorgio gobbo domenica invece avremo i due fratelli diventati famosi come le coliche sono presenteranno il suo il loro primo libro come il mal di pancia e racconteranno appunto le vicende di questi di questi due fratelli molto famosi su youtube e su instagram il 21 giugno invece lunedì apriremo con un'azio argento che ripercorrerà la tutta la sua vita dalla sua infanzia difficile ad un'adolescenza diciamo molto particolare e anche la sua la sua carriera e con lei ci sarà lorenzo pavolini scrittore e conduttore di rai radio 3 mentre il 22 martedì avremo come ospite willy peyote quindi dall'ultimo successo di sanremo come vincitore del premio della critica e racconterà dialogherà con giuseppe civati in questo libro dove appunto dove willy si chiama e appunto un una conversazione tra lui e pipo civati si racconterà diciamo sia nella sua carriera musicale che nella sua della sua vita e il 23 invece mercoledì avremo come ospiti di guido catalano e luca bottura quindi sarà tutto dedicato alla satira al alla poesia alla provocazione e quindi ci sarà questo duo satirico e anche un po provocatorio ludovica ci sarà poi una novità il 24 il premio che poi è la novità è la prima edizione giusto di esatto e diciamo che quando sono arrivate quest'anno ci sono arrivate tante proposte librari come ogni anno e soprattutto anche dedicate alla musica quindi questi artisti che quest'anno in questo momento di pandemia hanno hanno scritto diciamo hanno ritrovato nella scrittura non essendo più impegnati nei concerti sono dedicati praticamente alla scrittura e tra le varie proposte appunto che le case che la casa editrice ci hanno proposto c'era appunto cesare cremonini e da lì la prima cosa che abbiamo pensato passaggi dedica ogni anno un un riconoscimento il premio appunto passaggi festival che viene sempre dato ogni anno e il premio andrea bar giornalistico andrea barbato e quindi facendo appunto una riflessione con con giovanni con davide cattarossi che il curatore della rassegna diciamo che abbiamo pensato pochissimo abbiamo pensato che era giusto dare un riconoscimento anche chi in questi anni aveva avuto appunto un peso nel panorama del cantautorato italiano comunque sia aveva influito perché cesare appunto abbiamo deciso di darlo a cesare cremonini perché oltre appunto aveva scritto il suo l'ultimo libro let them talk ha praticamente è passato diciamo da generazioni quindi è stato il simbolo di più generazioni quindi dai ragazzi di vent'anni a quelli di ai cinquantenni cioè cremonini comunque è cresciuto diciamo e siamo cresciuti tutti con con i suoi successi e quindi appunto venerdì giovedì 24 giugno cremonini sarà nostro ospite ci parlerà appunto del del suo ultimo libro con simonetta shandivashi e al verli verrà conferito il premio fuori passaggi music in social insomma è sempre una cosa molto molto piacevole perché poi in fondo sono abituati a scrivere e a musicare questa volta la melodia è quella dettata dalla loro vita dalla dalla loro esperienza e non sarà l'unico cantante ospite l'unico cantautore no esatto infatti venerdì 25 avremo ospite piero pelu con appunto la sua autobiografia e quindi un cantautore il frontman elite fiba sarà nostro ospite e ci parlerà effettivamente di tutto quello che è stata la sua carriera e del ripercorrerà anche la storia che ha che ha vissuto dei momenti diversi in Italia e l'ultimo appuntamento invece sarà con l'influencer camioc e che possiamo dire che è quasi un caso un caso letterario c'è camioc che è praticamente conosciutissima su su instagram ha più di un milione di follower su instagram e di seguaci e lei ha praticamente è uscita con questo suo primo romanzo che è anche un romanzo ma è una sorta anche di autobiografia e si chiama per tutto il resto dei miei sbagli e da quando è uscito è sempre primo in classifica quindi sono ormai un paio di mesi che questo libro è primo in classifica quindi siamo anche contenti di avere questi personaggi che comunque sia si cimentano nella scrittura diventano appunto anche dei casi letterari quindi dobbiamo scoprirli cioè non lasciarci magari solo influenzare dall'apparenza appunto o da quello che fanno sui social o sulla o nell'ora carriera artistica ma appunto vediamo e li incontriamo per capire anche quello che scrivono quello che hanno poi da comunicare anche con scrivendo significativa se posso permettermi anche la scelta di questi due cantautori che per quanto differenti ecco hanno qualcosa in comune insomma vengono entrambi da una formazione musicale insomma di due band conosciute per poi essersi distaccati e aver intrapreso questa carriera da solista quindi insomma avranno tante cose da raccontare al pubblico di passaggi anzi di fuori passaggi che si divide appunto in music and social e poi la parte dedicata alla graphic novel sì esatto la parte appunto dedicata alle grafiche ormai dal 2017 che Giovanni Di Bari il curatore porta il fumetto il graphic novel a passaggi quindi ci saranno diversi nomi appunto abbiamo detto Davide Toffolo Sara Colaone Paolo Castalli comunque tutte sono tutte graphic novel incentrati su temi comunque di attualità e di riflessione e appunto saranno sempre al pincio e sarà un'ottima occasione anche quella di scoprire appunto una forma di scrittura diversa ma che sta appassionando tantissime persone sta avendo veramente un grande successo Bene, mancano pochissimi giorni, poi si parte, facciamo un piccolo ragguaglio tecnico Giovanni, cosa dobbiamo dire al nostro pubblico? Ma il 18 si parte, si parte in piazza 20 Settembre alla chiesa di San Francesco, al Pincio, alla Mediateca, si parte al Bombon al Lido, si parte a Bagni Torrette quindi è una città, Maria Elena è una città che vivrà il libro come occasione di incontro con autori famosi ma anche meno famosi con la curiosità, diceva prima bene Ludovica, di scoprire dei personaggi che magari fanno anche un altro lavoro, li conosciamo in un altro modo e lì invece abbiamo occasione di guardare queste persone, di incontrarle e di fare così, anche di maturare un nostro giudizio sulla scrittura è un festival ricco, è un festival che non è fatto soltanto di libri, perché noi abbiamo anche laboratori per bambini, abbiamo anche conversazioni scientifiche ne abbiamo già parlato proprio qui, insomma è un festival che ha delle mostre d'arte, è un festival difficile, certo, per come l'abbiamo organizzato perché organizzare un festival in tempo di Covid ed è il secondo anno ti garantisco che è difficile però c'è dentro il nostro entusiasmo nel creare, speriamo qualcosa di bello e di interessante per Fano Colgo l'occasione nuovamente per ringraziare tutte le persone che lavorano dietro le quinte di passaggi che sono tante i volontari che come abbiamo accennato nella prima puntata provengono da varie parti d'Italia Non solo da diverse parti d'Italia, nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una candidatura di un'amica che verrà da Bruxelles, si è presa le ferie e verrà da Bruxelles, tra l'altro è una giornalista, farà la volontaria a passaggi si occuperà di video e video interviste, Marta Fiorin, quindi abbiamo davvero un festival ricco di giovani che si impegnano per questa manifestazione Bene, io allora ringrazio Ludovica Zuccarini per essere stata con noi Grazie, grazie mille Grazie Giovanni Belfiori Grazie a voi E naturalmente grazie a Riccardo Sora in regia, siete tutti invitati a Passaggi Festival dal 18 al 25 giugno Grazie dell'attenzione, buon proseguimento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti